Successo storico ma dimezzato. In Lettonia il partito filo russo centro dell'armonia vince le elezioni anticipate con quasi il 29% dei voti, senza dunque la maggioranza necessaria per formare il nuovo governo. Centro dell'armonia ha il sostegno della minoranza russa, il 27% della popolazione, metà con diritto di voto. A giocare a favore del partito è stata in particolare la proposta di rinegoziare con Unione Europea e FMI il piano di salvataggio. Innanzitutto dobbiamo lavorare per rendere la politica Letton più socialmente responsabile, è un punto fondamentale per un paese appena scampato alla crisi e poi dobbiamo impegnarci tutti nel superamento dei problemi economici. A frenare l'entusiasmo dei filo russi le trattative avviate dai partiti di centro-destra, quello dell'ex presidente Valdis Zatlers, il partito della riforma, e quello del primo ministro uscente Valdis Dombrovskis, il partito dell'unità, rispettivamente secondo e terzo alle elezioni. Vorrebbero formare l'esecutivo coinvolgendo i nazionalisti. Il presidente Andris Berzinc lancerà le consultazioni il 28 settembre al ritorno dall'Assemblea Generale dell'ONU a New York.